Nel mondo ogni giorno accadono una meridia di cose straordinarie, esistenze spezzate, amori travolgenti, atti di grande eroismo o della pubblica vita. Eppure nessuna di queste cose verrà mai narrata, presto ne perderemo traccia. Al contrario, ogni giorno nel mondo escono migliaia di romanzi e conquistano un pubblico di lettori proprio per il loro non essere veri, per il fatto di mettere in campo una finzione strutturata. È come se la struttura del romanzo, innervando la finzione, la rendesse capace di dire qualcosa che la realtà non direbbe con altrettanta forza o intensità. Durante il corso La struttura di un romanzo impareremo proprio questo, come dare solidità alla finzione, come far sì che l'invenzione arrivi più vicina al vero di quanto non farebbero la ragione o il calcolo. E lo faremo guardando le due facce della luna, quella della scrittura e quella dell'editoria. Io sono Alessio Cuffaro e vi aspetto al nuovo corso online della Scuola Olden, La struttura di un romanzo.